Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui siamo in via fuori Porta Sant'Anna, guardate. Veramente più si spala, più si ricopre subito. Guardate qui, non so se il telefono rende, ma qui veramente c'è un'ottantina di centimetri. Questa è via fuori Porta Sant'Anna. Questa notte alcuni di questi rami sono caduti di questo cetro libanese. E siamo solo a 40 chilometri da Roma, siciliano 618 metri. Alfa rispezzate. Guardate qui, non c'è da un premato, non c'è da più niente. Siamo a 40 chilometri da Roma. Sembra di essere in Siberia. Tutto bloccato, rambi otti, alberi rotti, viabilità bloccata. Gli aerobusse non arrivano, non abbiamo corrente, non abbiamo niente. Ripeto, 40 chilometri da Roma. Siamo in Finlandia. Siamo in Finlandia. Siamo in Finlandia. Grazie.